No, scusate, io sono rapido, ma il punto non è che Morisi sia uno qualsiasi. Sallusti ha detto che io ho 24 collaboratori. Non era un collaboratore, era la persona più a stretto contatto per nove anni di Salvini. È la persona che ha creato il fenomeno social propagandistico di Salvini. Questi si vedevano dalla mattina e dalla sera. Non c'è nessun reato in questo. Ma scusami, se domani si scopre che io faccio quello che fa Morisi quando vado a casa il mio editore può essere accusato di complicità o potrebbe anche non aver avuto la palida idea che io sono il dottor Jay, che è il mister Ryan, via di qui vado a fare delle orge strafatto di droga. Alessandro, non sto parlando di complicità. Salvini non c'entra niente a livello giuridico, mi perdonerai. Se fosse successa la stessa cosa a Casalino, tu diresti ben cose diverse su Conte e su Casalino. Lascia stare, dai. Poi perdonami, ma questa giustizia orologeria cosa vuol dire? Cioè tu cosa hai detto? Negli ultimi vent'anni ci sono delle inchieste che condizionano. Ma che vuol dire? Che la Procura di Verona ha fatto tutto sto casino per fargli perdere le elezioni a Milano. Non ti dico che è autopubblicità, ma c'è in giro un libro che spiega esattamente come sono state in istante la orologeria. Che sarebbe il tuo... Da chi le ha in istante. Allora... Da chi le ha in istante. Vorrei tornare a Giovanni Di Lorenzo.